Oggi sono con Chiara e andremo a sbarazzarci di tutte queste monete. Ho altri due barattoli così, questo da 5 centesimi, poi ce l'ho da uno e da due. Secondo me ci sono massimo 10 euro. Secondo me 30, dai! Spero! No! Andiamo a vedere. Abbiamo trovato la macchinetta, raga. Adesso iniziamo a mettere i primi centesimi. Stop! Continua a salire. Ora mettiamo i due centesimi. Vai Chiara! Raga, sono troppo monete, stiamo bloccando la macchinetta. Ora le ultime da un centesimo. Vediamo! Guardate quanti sono da un centesimo. Avevo 590 monete da 5, 882 da 2, 1.3 da 1. Ed ecco qua 51 e 51! Damo, complimenti! Grazie.